Sono scaduti oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste che concorreranno alle elezioni amministrative del 5 giugno. In provincia di Campobasso sono 15 i comuni in cui gli elettori saranno chiamati alle urne per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale. Attenzione puntata sul centro maggiore Boiano dove i candidati sindaco sono 5. L'ex consigliere regionale Massimo Romano con la lista Boiano Domani, Dario Patullo del Movimento 5 Stelle, Marco Di Biase con Boiano Futura, Alfonso Mainelli con la lista Are Amatese e il vice sindaco uscente Gaetano Policella sostenuto dalla lista Boiano Unita. Gli altri comuni chiamati al voto sono Baranello sindaco uscente Marco Maio, Campo Chiaro sindaco uscente Antonio Carlone, Civita Campomarano uscente Paolo Manuele, Guardia Regia guidato da Fabio Iuliano, Macchia Valfortore uscente Nicola Zingaro, Matrice primo cittadino Domenico Antonio Zampini, Molise uscente Domenico Cirelli, Morrone del Sagno sindaco uscente Antonio Alfonso, Porto Cannone primo cittadino Luigi Mascio, San Biase sindaco uscente Isabella Di Florio, San Giacomo degli Schiavoni sindaco uscente Rino Bucci, San Massimo Sepino uscente Filomenazeoli e Ururi con il primo cittadino uscente Luigi Plescia.